Ben ritrovati dalla redazione, un combinato disposto di avvenimenti nazionali e regionali riapre il tema del fine vita anche per il consiglio regionale, mentre il capo della Lega Salvini apre alla libertà di coscienza per gli eletti del Carroccio in Piazza Oberda sta per arrivare una nuova mozione di opposizione che chiede alla regione di spingere il Parlamento a legiferare in materia. Materia, consiglio federale della Lega Salvini ha di fatto confermato una posizione già espressa nel gennaio scorso dopo aver approvato l'affondamento della misura sul fine vita voluta dal presidente leghista Zaia, il capo del partito aveva comunque sottolineato che il partito non è una caserma. La conferma ufficiale è arrivata garantendo la libertà di coscienza per le prossime votazioni. In Friuli Venezia Giulia la questione era stata trattata nei mesi scorsi, quando la maggioranza aveva bocciato una proposta di legge dell'opposizione basandosi su un parere dell'avvocatura che indicava nel Parlamento l'assemblea competente a legiferare in materia. Si terrà sabato alle 14 nella chiesa della Rocca di Monrupino il funerale di Eric Suber, il sedicenne colto da un malore fatale nella notte fra sabato e domenica, mentre dormiva nella sua casa del piccolo centro carsico. A celebrare la funzione sarà il parroco Anton Bedencic. Già alle 12.30 sarà possibile rendere omaggio alla salma del giovane di Monrupino, che sarà esposta nella chiesa della Rocca. Sarà presente fra gli altri il sindaco di Monrupino, Tania Cosmina. Cambiamo argomento, il nuovo collegamento da Per Stoccolma-Arlanda, il principale aeroporto svedese. Sarà operativo a partire dal 2 luglio 2025 nei giorni di mercoledì e sabato, con partenze da Trieste alle 20.50 e mercoledì alle 9.20 il sabato. I biglietti sono acquistabili su ryanair.com e sull'app della compagnia. Per la prima volta, Friuli-Venezia-Giulia avrà un collegamento di linea diretto per la Svezia e Stoccolma, un traguardo importante che costituisce il primo step della programmazione per lo sviluppo della stagione estiva 2025 dell'aeroporto della nostra regione. Parte Gusti di Frontiera-Gorizia, il Gran Galà dei Golosi 2024 esordisce con l'apertura degli stand a partire dalle 13.00, inaugurazione ufficiale alle 17.00 nel rinnovato Salotto del Gusto allestito in Piazza Sant'Antonio. Saranno presenti il sindaco Rodolfo Ziberna, l'assessore comunale Luca Cagliari, l'assessore regionale Sergio Midiobini, il sindaco di Nova Gorizia Samo Turella, direttrice del GECTCO Romina Cozzina, il presidente della fondazione Cassa di Risparmi Alberto Bergaming, il presidente della CCA di Venezia Giulia Antonio Paoletti, l'europarlamentare Anna Maria Cisint, la senatrice Tubetti, il presidente del consiglio regionale Bording, oltre al direttore di Tiare Shopping, Joachim Sgander con Floriana Ponticelli. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche, oggi cielo in prevalenza a coperto, piogge possibili già del mattino, in intensificazione del pomeriggio, deboli sulla costa, moderate in pianura, d'abbondanti intense sulle zone montane, specie sulle pre-alpi giuglie in serata. Vento da sud moderato sulla costa, con possibilità di mareggiate, vento sostenuto in quota, specie in serata su Alpi e pre-alpi giuglie. Temperature minime in pianura fra 13 e 16, le massime fra 18 e 21, sulla costa minima fra 17 e 19, le massime fra 21 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di Arpa e FWG, mette ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi. Grazie per averci seguito, a più tardi.